Siamo qui con Coach Pezzoli, una vittoria magari un po' fortunata ma ci si è creduto fino in fondo e questa è la cosa più importante. Sì, effettivamente non è stata una gran bella partita, anzi direi che il punteggio lo dimostra soprattutto quello dei tempi regolamentari, però quantomeno abbiamo avuto veramente voglia e non abbiamo mai mollato anche in un finale veramente difficile. Più la zona tra i due degli ultimi minuti, più la foglia di Deligios, di Ubiali e degli esterni, cosa è stato ciò che ha consentito alla squadra di rimontare e di andare a vincere questa partita? Probabilmente con la zona negli ultimi minuti e mezzo abbiamo cambiato inerzia al loro attacco e questo ci ha permesso a loro probabilmente di perdere un attimino il feeling con il canestro, a noi di trovare un minimo di entusiasmo con due canestri fatti in contropiedi e poi quando l'aspetto emotivo prevale normalmente vince la squadra più carica. Come con Asola un inizio praticamente disastroso per poi comunque dimostrare di avere la forza a rimontare anche se non si può ogni volta andare avanti a partire a handicap. Sì, il nostro problema grosso che abbiamo evidenziato in tantissime partite è l'approccio all'inizio della partita, sempre molto soft, sempre molto poco in positivo rispetto agli avversari, soprattutto quando sei in casa hai il dovere e l'obbligo di giocare da subito per imporsi e per cercare da subito di vincere la partita, non aspettare i canonici 3-4 minuti. Altra partita giocata magari non bene come le prime 6-7 però ancora portata a casa, va bene così per ora no? Sì, piuttosto che avere punteggi altissimi 80-90 e perderle preferiamo tenere i punteggi molto bassi, addirittura sotto i 60 punti ma sicuramente avere così più chance di vittoria. Un applauso a Tontini che ha fatto il canestro decisivo praticamente impossibile, era forse il giocatore che mancava in quei momenti con comunque la sua qualità, i suoi tiri per magari vincere le partite o portare i supplementari. Da un tiratore come Tontini mi aspetto sempre questo tipo di canestro anche perché comunque tutto sommato è stato un tiro preso in equilibrio ed era il suo tiro. Sempre più importante andare a Bancole adesso e cercare di far bene anche lì per proseguire su questa strada anche se non sarà facile su quel campo? Sicuramente non sarà facile però questa vittoria io spero, penso che ci darà quell'entusiasmo per andare a Bancole e portare a casa la partita. Bene, grazie, ciao. Siamo qua con il coach Riboldi, coach un'analisi su questa sfortunata partita per voi. Sì, sfortunata perché l'abbiamo persa sicuramente per degli episodi finali di cui dobbiamo solo fare mea colpa, quindi è vero, sfortunata ma con colpa, non è che sia solo sfortuna. Deve servire da lezione perché sicuramente c'è stata molta poca lucidità, attenzione, complici tutti io per primo sulle ultime due azioni e non abbiamo avuto la pespicacia, l'attenzione come dicevo prima di chiudere due situazioni che alla fine hanno portato goal a fare due bombe, due la zona alla fine di Gorle vi ha fatto perdere mi sembra, si è giocato un po' su quello la partita, i momenti finali. Sì, abbiamo provato a mettere un po' di zona verso la fine, avevamo anche qualche problema di tenuta fisica di qualche giocatore, l'abbiamo fatto essenzialmente che un po' per quel motivo lì ha pagato. E' vero che poi Gorle si è messo la zona, ci ha messo un po' in crisi, però ripeto poi purtroppo nel supplementare la partita a livello di inerzia era abbastanza girata, cioè noi se l'abbiamo persa, l'abbiamo persa sicuramente in tempi regolamentari. Una nota comunque positiva di questa partita, l'inizio mi sembrava comunque una squadra di livello assoluto, il primo quarto e i primi minuti giocati, cosa altro ti è piaciuto oggi della tua squadra al diare magari dei possessi finali? Ti ringrazio, è vero però durano 40 minuti le partite, per cui giocarne 10 o 12 o 8 non serve. Stiamo facendo esperienza, devo continuare a dire che abbiamo sempre in campo tanti ragazzi con qualche segno, per carità, ma tanti ragazzi e quindi stiamo facendo esperienza. Delle volte l'esperienza passa anche da delle scottature come questa qua e se nel percorso di crescita ci devono essere, che ci siano insomma. Il prossimo impegno? Il prossimo impegno andiamo a Seriana contro un'altra squadra a Bergamasca, sicuramente sarà molto difficile anche lì, squadra sicuramente forte, poi sempre in trasferta e dura, due trasferti di fila, quindi abbiamo, niente, dal lunedì ricominciamo ad allenarci. Grazie coach. Grazie a voi.